Abbracciate il vostro vicino, chiunque trovate, ci facciamo tante cose insieme, dopo chi vuole può farsi fare una foto con uno dei cartelli con degli slogan per il referendum i soldi di tutti alla scuola di tutti, costituzione scuola inclusiva, referendum più accorpamento e partecipazione e tanti altri quindi non fate i timidi perché oggi non è la giornata giusta Accordiamoci Allora, pronti per la partecipazione? Accorpamento! Adesso ne stessi diciamo Accorpamenti, scambiamoci un sogno di pace Accorpamenti, buona ancora Accorpamenti, buona ancora Grazie a tutti.